Chiusa le votazioni per il Consiglio provinciale, definiti di eletti ed espresse tutte le possibili analisi del voto, dei vincitori, delle sorprese e di eventuali sconfitti o defaianze, ci viene una riflessione circa i comuni che purtroppo, per motivi legati allo scioglimento dei consigli comunali, non hanno partecipato all'appuntamento elettorale. Ci viene da chiedere, ma è normale che tante piccole realtà e alcune città che superano i 30 o i 40 mila abitanti non partecipino alla scelta di un'assemblea, pur essendo essa quanto mai autoreferenziaria e non popolare. Una legge voluta da un governo ha eliminato il voto popolare ed un'altra, quella dell'antimafia, ha vietato, in realtà piccoli o grandi, la rappresentatività politica ed amministrativa. Fra i comuni Scafati è stata privata della rappresentanza, eppure è una città dell'agro di circa 50 mila abitanti che forse non avrebbe determinato la vittoria del centro-destra o del centro-sinistra, ma sicuramente, crediamo, avrebbe potuto determinare la elezione di un consigliere provinciale o di un altro. Beh, le nostre sono solo riflessioni giornalistiche, forse sciocche, ma sono riflessioni esternate che si spera però facciano riflettere anche altri forse addetti ai lavori.